E di due feriti il bilancio di un incidente stradale ha caduto stasera alle 18.30 sulla statale 131 DCN al chilometro 43 in località Nurdole. Una lancia Y per causa in corso di accertamento si è ribaltata provocando gravi contusioni ai due passeggeri. Scatato l'allarme sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato i feriti all'ospedale San Francesco di Nuoro. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno messo in sicurezza l'auto e l'arteria. I rilevi di legge sono stati effettuati dalle forze dell'ordine.